Siamo, siamo in studio aperto, stiamo salendo furotare le fedelezze, pare che abbiamo giurato un muoto. Stiamo vedendo gli agenti della Digo, immettiamo che stiamo salendo le scale, che diventano sempre più strette come potete vedere, perché questa torre risale dal 1300 e con gli agenti della Digo. Ebbene, forse vi andrò su un cadavere, questa è nella prova, questa è nella prova, salite su con noi, salite su. Occhio, fate piano, attenzione perché è pericoloso, adesso sarà un casino, adesso è salire con la telecamera. Vediamo un po' se lasciamo farcela. Adesso chiederemo a la Digo, gentilmente, di tenerci la telecamera, se no non riusciremo a salire. Si, taglia un attimo la telecamera, aspetti un attimo che non vado un cazzo, vado a fare. Salite, salite. Attenzione, c'è il morto, c'è il morto, è il morto, è lui, è lui, è il morto. Mi abbiamo trovato. Allora, io faccio come l'altro. L'abbiamo trovato. È il morto, lo abbiamo trovato. È il morto. Non mi farà ammettere, è il morto, aspettate che inquadriamo bene il viso. Come vedete, aspetta, aspetta, è morto. Inquadra, guarda il panorama. Un attimo, un attimo. È morto, tanta vuota, raga. Come vedete i segni del dolore. Ma che cazzo mi muoce? Sto dormendo. Al suo punto inquadriamo il panorama. Al suo punto inquadriamo il panorama è che sono solo luci. No, ma c'è la piazza di là. Di là c'è la piazza. No, perché può essere qua sotto. Inquadra la piazza. Ebbene, signori, siamo molto in alto. Siamo molto in alto, mi chia. La piazza di Casellette. Eccanmi lo saluto. Dove è una passota? Ehi, ci sono tipo un manco donino. Siamo tappo in alto, raga. Mi chia, c'è la luce in faccia. Ma, vabbè, vabbè. Siamo brutti così, aspetta. Ma, vabbè, vabbè. Aspetta, che ti inquadro bene. Non ti si vede. Guardate la faccia del... Guardate la sopra. Dove? La sopra la piazza. Mentre gli altri però non ci sono. Siamo piuttosto in alto, direi. Sì, ma non si vede ancora. Buongiorno, servizio finito. Vaffanculo. Grazie.